La prima vera legge che esituisce regole certe anche per distribuire i fondi della cultura. Maggioranze e opposizione hanno trovato nei giorni scorsi l'accordo sul testo unico della cultura, una legge che approda in Consiglio regionale, testo di 100 pagine e 70 articoli. Il riordino di tutte le leggi vigenti in materia culturale passa attraverso il programma triennale. Uno degli aspetti più importanti è che l'articolo 4 traccia la linea sui finanziamenti, non più decisi a tavolino ma in base a precisi accordi con enti locali. Ci sono poi tanti altri aspetti interessanti. Per la programmazione è importante proprio il programma triennale, uno strumento di progettazione che stabilisce gli indirizzi strategici della politica culturale regionale per l'organizzazione delle attività e la realizzazione delle iniziative. E poi i tavoli tecnici della cultura per consultazione e confronto. La Regione garantirà sostegno con contributi a favore dell'ente terzo organizzatore e alle imprese culturali. Saranno attivati fondi di garanzia, fondi rotativi e altri strumenti. I comuni avranno un ruolo importante. Ci sarà l'osservatorio culturale d'Abruzzo con compiti di monitoraggio e la legge doterà l'Abruzzo di una vera e propria film commission. È uno strumento normativo moderno e al passo con i tempi che permetterà a tutti gli operatori della cultura appunto di avere uno strumento importante di programmazione anche economica. Con l'approvazione di questo testo avremo finalmente una vera film commission in Abruzzo ma è un testo che abbraccia ogni singolo aspetto della cultura biblioteche, musei, archivi, un po' tutto spettacoli dal vivo e quindi metteremo sicuramente al passo con i tempi la Regione Abruzzo tra virgolette questo segue l'approvazione di qualche settimana fa del testo unico del turismo per dimostrare una strategia che fa viaggiare a braccetto turismo e cultura per una migliore promozione del nostro territorio.